ciao a tutti in questo esercizio fra le varie cose metteremo in pratica quello che abbiamo imparato sull'animazione dei caratteri di un testo ok vediamo subito quello che dobbiamo realizzare benissimo come avete visto si tratta di una breve presentazione di fotografie accompagnata da alcuni testi il video è diviso in tre scene nella prima c'è una foto svelata da alcune tendine colorate bianche nere e azzurre a fianco alla foto qui c'è un testo e come vedete l'animazione del testo avviene lettera per lettera la seconda scena come vedete è simile alla prima soltanto che la foto è spostata a sinistra e il testo è spostato a destra e nell'ultima scena invece al posto della fotografia abbiamo l'apparizione del logo finale sempre animato lettera per lettera benissimo incominciamo col creare la prima scena allora andiamo nel menu composition new composition chiamiamo questa prima composizione appunto scena 1 usiamo solito preset hdtv 1080 25 e come durata cinque secondi io l'ho già impostata diamo ok bene creiamo la prima tendina bianca e partiamo da un rettangolo bianco quindi prendo lo strumento rettangolo come colorazione impostiamo tinta unita bianco e in questo caso io ho già pronto il colore bianco e quindi per creare un rettangolo esattamente grande come la composizione basta fare un doppio clic qui sull'icona del rettangolo quindi doppio clic ed ecco il rettangolo bianco ora per creare il taglio oblico usiamo un effetto di transizione quindi andiamo nel menu effetti nella sezione transition e per la precisione ci serve l'effetto cc jaws che abbiamo già usato più di una volta in precedenza quindi aggiungiamolo aumentiamo subito il parametro complexion e vediamo come si comporta apre un taglio al centro dell'inquadratura e i due bordi del taglio hanno questo profilo seghettato ma noi vogliamo annullare questa seghettatura qua e per farlo basta che azzeriamo il parametro height che gestisce appunto l'altezza di questo profilo quindi azzeriamolo e quindi abbiamo eliminato quel profilo seghettato bene nel nostro caso ci serve un taglio però in questa direzione qui quindi agiamo adesso sul parametro direction e direi di impostarlo più o meno tra i 70 e gli 80 gradi così direi che va bene però non lo vogliamo qui al centro ma più spostato verso destra e per fare ciò basta prendere questo cerchietto con la croce che sta qui al centro del taglio e spostarlo nella zona in cui lo si vuole io direi più o meno qui soltanto che dobbiamo aumentare un poco di più il parametro complexion perché voglio uno squarcio un po' più largo magari una larghezza così e spostiamo ancora un po' più a sinistra il centro del taglio bene ora per marcare meglio il profilo di questo taglio aggiungiamo anche un effetto ombra quindi andiamo nel menu effetti sezione prospettiva drop shadow aumentiamo un poco la softness in modo che venga un po' sfumato e azzeriamo anche la distanza benissimo rinominiamo subito lo shape layer lo seleziono e lo chiamo tendina bianca ora per creare l'animazione che apre questo taglio qui dobbiamo lavorare sul parametro complexion quindi doppio clic sul parametro complexion in modo che compaia qui nella timeline voglio che questa animazione duri più o meno un secondo ma non voglio farla cominciare al tempo zero voglio che cominci un po' più tardi rispetto all'inizio quindi avanzo nella timeline vado circa 10 frame nel momento iniziale la tendina deve essere completamente chiusa quindi azzeriamo questo valore accendo l'orologio e come ho detto prima un secondo dopo quindi a circa un secondo e 10 riapriamo il taglio e direi di fermarsi vicino al 50% un valore più o meno così benissimo e direi anche di ammorbidire il keyframe finale quindi lo seleziono e con la palette controllo is easy assegno un valore tra i 70 80 proviamo a fare una preview per vedere se la velocità di apertura ci sta bene benissimo direi che perfetto ora abbiamo bisogno di altre due tendine una nera ed un'azzurra che rimangono un poco più chiuse rispetto a quella bianca quindi non facciamo altro che duplicare la tendina bianca e cambiare il colore quindi innanzitutto chiudiamo il livello tendina bianca così risparmiamo un po' di spazio nella timeline selezioniamo il livello e con la scrociatoia control d duplichiamo questo livello la seconda tendina la ricoloriamo di nero quindi andiamo nella palette che gestisce i colori e assegniamogli un colore magari non proprio nero un grigio scuro più o meno così e diamo l'ok rinominiamo subito questo livello anziché tendina bianca tendina nera e però questo livello deve stare al di sotto della tendina bianca quindi nella timeline la spostiamo qua sotto ora però dobbiamo correggere il keyframe finale dell'animazione dell'apertura perché la tendina nera deve rimanere un poco più chiusa quindi selezioniamo tendina nera clicchiamo il tasto u che è la scorciatoia per far apparire le proprietà con i keyframe ci allineiamo con il secondo keyframe e in questo momento qui vogliamo che la tendina rimanga un poco più chiusa più o meno facciamo così ora vogliamo una terza tendina azzurra ancora più chiusa di quella nera quindi ripetiamo l'operazione appena fatte selezioniamo la tendina nera ctrl d la duplichiamo il duplicato lo mettiamo subito sotto la tendina nera e prima di cambiare il colore magari correggiamo immediatamente il secondo keyframe quindi tasto u il cursore è già sopra il secondo keyframe quindi posso subito cambiargli il valore io direi più o meno questo valore qui e adesso possiamo cambiare il colore quindi andiamo nella palette di fill e assegniamo un azzurro di questa tonalità qua benissimo ora abbiamo tre tendine che si aprono però l'apertura in questo momento avviene contemporaneamente su tutte e tre invece vogliamo che ci sia un minimo di ritardo fra la prima e la seconda tra la seconda e la terza quindi mettiamo in evidenza anche i keyframe della tendina bianca quindi la seleziono col tasto u li metto in primo piano prendiamo i due keyframe della tendina nera li spostiamo uno due tre quattro facciamo quattro frame in ritardo rispetto a quelli della tendina bianca poi prendiamo i keyframe della tendina azzurra li spostiamo altri quattro frame più avanti rispetto a quella nera bene prima di fare la preview rinomino l'ultima tendina che non avevo rinominato quindi la seleziono e la rinomino tendina azzurra benissimo proviamo a fare una preview perfetto ora possiamo aggiungere la fotografia torniamo alla finestra progetto prendo una delle due foto che ho già preparato che è questa qui se anche voi volete usare le stesse foto che sto usando io naturalmente come al solito io vi lascio poi il link della pagina del tutorial dal quale poi voi potete scaricarvi gratuitamente le stesse foto quindi dicevo prendo la fotografia la aggiungo qui metto in evidenza la proprietà scala e la riduco un po io direi che questa grandezza può andar bene ora non vogliamo che la foto rimanga statica vogliamo due animazioni una sulla scala cioè un lento ingrandimento e anche una lenta rotazione verso destra quindi prendiamo il cursore andiamo al tempo zero la proprietà scala è già in evidenza quindi col tasto shift e r metto in evidenza anche la proprietà rotation a questo punto posso accendere gli orologi di tutte e due le proprietà per fissare la scala rotazione iniziale poi prendiamo il cursore lo spostiamo sull'ultimo frame della composizione e aumentiamo un pelo la scala io direi più o meno così e aumentiamo anche di qualche grado la rotazione magari 4 5 gradi spostiamo ancora un filo in basso la fotografia e proviamo a fare una preview per vedere se la velocità dell'animazione della foto è sufficiente perfetto magari spostiamo l'anchor point della fotografia da questo punto al centro della figura in questa zona qui quindi prendiamo lo strumento per spostare gli anchor point a mano che è questo qui e spostiamo l'anchor point direi in questa zona qui vicino alla testa benissimo direi che così forse ruota un po meglio ora il titolo qui sulla sinistra ma prima dobbiamo pensare a creare una linea nera che si disegna da sinistra verso destra quindi disattiviamo tutti i livelli cliccando in un punto vuoto della timeline e prendiamo lo strumento pennino in questo caso non ci serve il fill quindi clicchiamo sul bottone fill e disattiviamo il fill cliccando sulla barra rossa poi il colore del contorno lo vogliamo uguale alla tendina nera quindi clicchiamo sulla paletta del colore di stroke prendiamo il contagocce e campioniamo appunto la tendina nera e diamo l'ok direi di partire in questa zona qui quindi clicco qui poi tenendo premuto il tasto shift clicchiamo più o meno in questa zona qui in modo che la linea venga perfettamente orizzontale bene prima di proseguire rinominiamo lo shape layer lo seleziono e lo rinomino appunto linea nera ora per animare il disegno di questa linea da sinistra a destra usiamo la sua proprietà trim paths che ormai conosciamo bene apriamo il contenuto di linea nera selezioniamo contents e dal suo menu add aggiungiamo la proprietà trim paths apriamo il parametri trim paths e prendiamo il cursore e decidiamo qual è il momento in cui la linea deve cominciare a disegnarsi e io direi un poco prima che le tendine finiscano di aprirsi più o meno a un secondo e in questo momento a zero la proprietà and e questo fa sì che la linea si cancella tutta accendo l'orologio di end e circa un secondo dopo quindi vado da 1 a 2 riporto l'end a 100% e a questo punto la linea è completamente disegnata perfetto prima di fare una preview direi di ammorbidire il keyframe finale quindi lo seleziono e gli assegno un valore simile a quello delle tendine anche in questo caso tra i 70 e gli 80 facciamo una preview perfetto ora creiamo la prima linea di testo cioè motion che deve essere dello stesso colore azzurro della tendina quindi prendiamo lo strumento testo clicchiamo in questa zona qui e scriviamo motion magari lo allarghiamo un poco di più più o meno di questa grandezza qui e nella palette character prendiamo il contagocce e andiamo a campionare l'azzurro della tendina bene ora faremo l'animazione dei caratteri del testo e in questo caso il testo si deve trovare sotto la linea e poi una lettera alla volta deve riemergere al di sopra della linea quindi innanzitutto chiudiamo pure il contenuto di linea nera così risparmiamo un po di spazio apriamo il contenuto del livello di testo e aggiungiamo nella sezione text la proprietà position quindi seleziono text vado nel menu animate e aggiungo appunto position benissimo con questa proprietà position ora mettiamo il testo nella sua situazione di partenza quindi agiamo sul secondo parametro e spostiamo tutti i caratteri al di sotto della linea ora come sappiamo per riportare un carattere alla volta alla sua posizione originale dobbiamo lavorare con i parametri della proprietà range selector quindi apriamo range selector andiamo direttamente in advanced perché come al solito noi useremo come forma dell'intervallo di transizione anziché square a ramp up ora stringiamo un po con l'intervallo di interpolazione lavorando sul parametro start e come facciamo spesso lo portiamo a circa il 50 per cento e ora facciamo l'animazione su offset da meno 100 per cento a più 100 per cento ora in questo caso l'animazione dei caratteri del testo deve seguire un po l'animazione della linea cioè la m deve cominciare ad emergere quando la linea nera passa dalle sue parti quindi prendiamo il cursore e lo portiamo nel momento in cui la linea nera è nei pressi della m io direi più o meno in questo momento qua ora prendiamo il parametro offset lo portiamo a meno 100 per cento qui deve cominciare l'animazione quindi clicco l'orologio di offset e quando finisce quando la linea nera è arrivata in fondo quindi la portiamo più o meno a due secondi e qui possiamo portare offset al massimo vediamo se l'animazione del testo coincide con il passaggio della linea nera direi che ci siamo però noi vogliamo che il testo si veda soltanto al di sopra della linea nera in questo caso come abbiamo imparato nella lezione precedente basta creare direttamente una maschera sul livello di testo quindi prendiamo lo strumento rettangolo e disegniamo una maschera così l'importante che il lato inferiore della maschera segua la linea nera e ora tutto dovrebbe funzionare perfetto prima di fare la preview un'ultima cosa direi di ammorbidire l'animazione di questi caratteri qua e per farlo basta che aumentiamo il valore di easy low quindi lo porterei tra gli 80 e 90 bene ora proviamo a fare una preview perfetto direi che ci siamo ora per aver la seconda linea di testo duplichiamo quella che abbiamo appena fatto quindi innanzitutto la chiudiamo nella timeline così risparmiamo un po di spazio la selezioniamo e ctrl d la duplichiamo poi doppio clic sul duplicato e modifichiamo la scritta da motion a graphics bene graphics lo vogliamo del colore della seconda tendina quella nera quindi prendiamo il contagocce della palette character e campioniamo la seconda tendina ora possiamo spostare questo testo più in basso e magari lo piazziamo anche un poco più a destra più o meno così perfetto ma al momento il testo graphics sale dal basso all'alto mentre invece vogliamo che scenda dall'alto verso il basso quindi dobbiamo correggere la posizione iniziale quindi apriamo il contenuto di graphics apriamo la sezione text e correggiamo la posizione iniziale lavorando sulla position quindi non vogliamo che il testo si trovi qui all'inizio ma vogliamo che si trovi sopra la maschera quindi in quella zona qui adesso le cose dovrebbero funzionare vediamo perfetto proviamo a fare una preview benissimo ci siamo ultima cosa prima di completare la scena 1 è questo effetto che passa sopra la scena da sinistra a destra all'interno del quale si vede la composizione ingrandita e colorata di azzurro per crearlo useremo un livello di aggiustamento quindi chiudiamo pure il livello di graphics andiamo nel menu layer new adjustment layer bene il livello d'aggiustamento è un livello che serve per applicare un effetto contemporaneamente a tutti i livelli sottostanti in questo caso mi serve un effetto che ingrandisca tutto quello che sta al di sotto del livello d'aggiustamento e per la precisione mi serve l'effetto transform quindi andiamo nel menu effetti nella categoria distort in questo caso e l'effetto è transform qui abbiamo un parametro scala possiamo ingrandirlo più o meno tra i 120 e i 130 un valore così penso che vada bene però in questo caso non vogliamo che l'effetto venga applicato a tutta quanta la composizione ma soltanto a una barra e nel nostro caso basta restringere la larghezza del livello d'aggiustamento direi di ridurlo più o meno a questa larghezza qui e magari aumentiamo anche un poco l'altezza perfetto soltanto una ultima cosa non lo vogliamo così verticale ma inclinato come le tendine colorate quindi clicco il tasto r metto in evidenza la rotation e lo incliniamo più o meno così perfetto ora prima di fare l'animazione da sinistra a destra dobbiamo aggiungere un secondo effetto che colora di azzurro tutto quello che trova sotto quindi andiamo nel menu effetti sezione color correction e in questo caso particolare ci è utile l'effetto tritone appena applicato come vedete tutto quanto si ricolora di marrone chiaro e questo succede perché il parametro mid tones è impostato appunto sul marrone chiaro ma noi invece vogliamo che tutto si ricolori con lo stesso azzurro della tendina del testo quindi prendiamo il contagocce del parametro mid tones e campioniamo la tendina bene ora possiamo finalmente prendere il livello d'aggiustamento e spostarlo fuori a sinistra poi mettiamo in evidenza la proprietà position e facciamo partire l'animazione del livello d'aggiustamento non appena il titolo ha finito di comporsi quindi io direi più o meno in questo momento qui quindi adesso accendiamo l'orologio di position avanziamo circa un secondo quindi siamo a 1 17 andiamo a circa 2 17 e spostiamo il livello d'aggiustamento fuori a destra proviamo a fare una preview benissimo direi che la velocità di passaggio è perfetta quindi la scena 1 è completata la scena 2 la otterremo duplicando questa scena e poi modificando le sue componenti però prima mettiamo un po' di ordine in questa composizione selezioniamo i due livelli di testo clicco il tasto u per mettere in evidenza i keyframe e trimmo l'inizio dei due livelli di testo fino a quando non comincia l'animazione quindi fino al primo keyframe la stessa cosa lo facciamo anche per il livello d'aggiustamento trimiamo la testa fino al primo keyframe e trimiamo anche la coda fino al secondo keyframe perché il livello d'aggiustamento ci serve solo in questo secondo qui bene ora possiamo procedere con la scena 2 quindi torniamo nella finestra di progetto selezioniamo scena 1 e con il control d la duplichiamo benissimo si crea subito un duplicato col nome scena 2 ci facciamo doppio clic sopra in modo che la scena 2 si apra nella timeline per prima cosa sostituiamo la foto quindi seleziono la foto nella timeline prendo la foto che voglio mettere al suo posto tengo premuto il tasto alt e ce la trascino sopra ora spostiamo le tre tendine qui sulla sinistra e poi sposteremo il testo sulla destra allora seleziono la tendina bianca metto in evidenza finestra e controllo effetti seleziono l'effetto cc jaws a questo punto dovrebbe comparire di nuovo quel cerchietto con la croce che è il centro dell'effetto tendina lo prendo e lo trascino qui a sinistra più o meno in questa zona qua ripetiamo la stessa operazione anche per la tendina nera la seleziono seleziono l'effetto cc jaws prendo il cerchietto il centro dell'effetto e lo sposto in questa zona qua seleziono la tendina azzurra seleziono il suo effetto e sposto il centro dell'effetto qui a sinistra benissimo ora prendiamo la linea nera i due livelli di testo li spostiamo a destra quindi seleziono linea nera motion e graphics e li trascino in questa zona qui perfetto incominciamo a prendere in considerazione la linea nera che al momento ha ancora l'animazione da sinistra verso destra come si vede bene ma noi vogliamo che l'animazione vada al contrario e per farlo basta invertire la direzione del tracciato e come si fa apriamo il contenuto di linea nera andiamo nella sezione shape e come vedete qui a fianco al parametro path ci sono due frecce se noi clicchiamo sulla seconda freccia invertiamo la direzione del tracciato quindi clicchiamo sulla seconda freccia e adesso come vedete la linea si disegna appunto da destra a sinistra al contrario rispetto a prima bene ora concentriamoci sui due livelli di testo prendiamo motion e lo spostiamo un poco più a sinistra e dobbiamo cambiare il testo da motion a after effects quindi doppio clic sopra scriviamo after effects riduciamo un poco la dimensione del carattere usando il primo parametro della palette character io direi che come dimensione potrebbe andar bene questa spostiamo ancora un po più a sinistra il testo possiamo arrivare più o meno fino qua e ora il secondo livello di testo quindi doppio clic su graphics in questo caso ci serve la scritta tutorials quindi tutorials e spostiamo il testo in questa zona qua bene però come vedete l'animazione del testo è uguale a prima cioè comincia dalle prime lette dalla a e la t e invece in questo caso vorremmo che cominciassero dalle ultime dalle due s e per far questo dobbiamo fare alcune modifiche al testo incominciamo con after effects apriamo il contenuto di after effects andiamo nella sezione range selector e entriamo nei parametri di advanced per far sì che l'animazione cominci dall'ultima lettera anziché dalla prima dobbiamo cambiare l'impostazione da ramp up a ramp down ma come vedete l'animazione al momento è al contrario le lettere anziché salire scendono e quindi adesso dobbiamo invertire l'animazione del offset e per invertire questi due keyframe potremmo spostarli a mano cioè prendere il secondo keyframe metto al posto del primo e viceversa oppure più rapidamente possiamo selezionarli entrambi poi cliccando col tasto destro su uno dei due il secondo per esempio andiamo alla voce keyframe assistant e attiviamo time reverse keyframe proviamo e a questo punto dovremmo esserci come vedete prima sale l'ultima lettera poi la penultima e via così benissimo quindi la stessa cosa adesso la ripetiamo anche per tutorials quindi selezioniamo tutorials apriamo i suoi parametri andiamo direttamente in advanced cambiamo impostazione da ramp up a ramp down e invertiamo l'animazione sull'offset quindi selezioni due keyframe tasto destro keyframe assistant time reverse keyframe perfetto quindi adesso entrambi i testi si animano dall'ultima lettera verso la prima ultima cosa come vedete l'animazione dei testi è un po in ritardo rispetto alla linea quindi prendiamo i due livelli di testo tutorials e after effects e li anticipiamo un poco nella timeline io direi più o meno così vediamo se va bene ancora un po benissimo così ci siamo chiudiamo pure i due livelli del testo e anche il livello della linea nera benissimo prima di fare una preview un'ultima cosa invertiamo anche il passaggio del livello d'aggiustamento cioè lo facciamo passare da destra verso sinistra e quindi come abbiamo appena fatto per l'inversione dell'animazione del testo selezioniamo i due keyframe dell'animazione su position e col tasto destro andiamo in keyframe assistant time reverse keyframe bene finalmente facciamo la preview e vediamo se tutto va bene l'animazione delle tendine del testo è perfetta soltanto la fotografia direi di centrarla un po meglio rispetto alle tendine quindi la seleziono la sposto un poco più a sinistra e magari pendo il suo anchor point lo metto al centro dei personaggi quindi prendiamo lo strumento anchor point lo mettiamo magari in questa zona qui e rimpicciolirei anche un poco la fotografia quindi seleziono la foto metto in evidenza la scala e siccome ci sono già due keyframe devo selezionarli entrambi porto il cursore su uno dei due keyframe per esempio sul secondo e rimpicciolisco la foto io direi più o meno di questa grandezza qua spostiamola ancora più in basso benissimo rifacciamo una preview bene ora adesso costruiamo la scena 3 quindi torniamo di nuovo nella finestra di progetto e duplichiamo ancora la scena 1 quindi seleziono la scena 1 ctrl d il duplicato si chiama anche in questo caso scena 2 ma noi la rinominiamo subito scena 3 poi doppio clic e in questo caso non ci serve la fotografia quindi la selezioniamo la eliminiamo al suo posto invece ci serve uno sfondo bianco e quindi possiamo duplicare la tendina bianca e togliere l'effetto di transizione quindi seleziono la tendina bianca ctrl d la duplico il duplicato lo metto in fondo a tutti quanti i livelli apro la finestra degli effetti selezioni su effetti cc jaws e drop shadow e li butto via rinominiamo livello anziché tendina bianca lo chiamiamo sfondo bianco benissimo però in questo caso le tendine non devono rimanere semi aperte come nella scena 1 nella scena 2 ma devono aprirsi completamente dal centro verso l'esterno quindi incominciamo dalla tendina bianca la selezioniamo selezioniamo l'effetto cc jaws riportiamo il centro della tendina al centro della composizione facciamo la stessa cosa anche per la tendina nera ma spostiamo qui al centro e anche sulla tendina azzurra spostiamo il centro qua bene solo che come dicevamo prima le tendine non devono rimanere semi aperte come adesso ma devono aprirsi completamente quindi di nuovo cominciamo con la tendina bianca ci allineiamo col suo secondo keyframe e portiamo il valore di complexion in questo caso al 100 per cento in modo che la tendina si apra completamente la stessa cosa la facciamo anche sulle altre due ci allineiamo con il secondo keyframe della tendina nera e portiamo la complexion al 100 per cento poi su quella azzurra e anche qui cento per cento e quindi le tendine si aprono completamente dal centro in fuori bene ora il testo prendo la linea e i due livelli di testo e risposto qui al centro della composizione bene per capire un po meglio dove si trova il centro della composizione magari metto in evidenza le cornici di sicurezza che stanno in questo menu qua title action safe benissimo quindi spostiamo la linea sulla croce che indica il centro della composizione ora mettiamo a posto un elemento alla volta selezioniamo la linea nera e l'accorciamo un poco quindi apriamo i suoi parametri andiamo dentro shape selezioniamo path in modo che compaiano i due vertici della linea prendiamo il primo vertice lo portiamo io direi più o meno qua e il secondo vertice più o meno in questa zona qui ora la linea si allunga da qui a qui benissimo ora modifichiamo la scritta motion quindi doppio clic la scritta in questo caso è mg però non la vogliamo azzurra ma nera come la seconda quindi prendo il contagocce e campiono nero della seconda scritta in questo caso però bisogno che la scritta sia molto più grande quindi la seleziono la ingrandisco direi più o meno così spostiamo un po più a destra e ultima cosa la seconda scritta quindi doppio clic su graphics in questo caso è tutorials però molto più piccola più o meno larga come mg quindi ancora un po più piccola e poi la spostiamo sopra qua perfetto in questo caso direi di anticipare un po l'arrivo del testo cioè appena le tendine cominciano ad aprirsi vorrei che incominciasse ad apparire il testo quindi in questo momento qui prendiamo la linea nera il livello di testo e li anticipiamo nella timeline in modo che comincino adesso e appena la scritta è comparsa vorrei che sopra ci passasse livello d'aggiustamento quindi prendiamo anche il livello d'aggiustamento lo anticipiamo più o meno in questo momento qui ultima cosa vorrei che il livello d'aggiustamento modificasse il testo nero in azzurro e in questo caso dobbiamo modificare anche il parametro shadow dobbiamo fare in modo che anche i pixel neri diventino azzurri quindi prendiamo il contagocce di shadow e copiamo il colore di mid tones in modo che anche il nero diventa azzurro facciamo una preview perfetto direi che ci siamo ora assembliamo le tre scene nella composizione finale quindi andiamo nel menu composition new composition chiamiamo questa composizione finale esercizio 10 finale e come lunghezza lo facciamo il triplo delle scene quindi 15 secondi e diamolo ok bene ora prendiamo la scena 1 l'aggiungiamo qui avanziamo circa 3 secondi 3 secondi e mezzo e qui vogliamo che cominci la scena 2 quindi prendiamo la scena 2 l'aggiungiamo nella timeline e la spostiamo in questa zona qui solo che al momento la scena 2 si sovrappone completamente alla scena 1 invece vogliamo che si apra con una tendina in questo caso la tendina si deve chiudere verso il centro con un'inclinazione perpendicolare alle tendine della scena 1 quindi selezioniamo scena 2 e dal menu effetti aggiungiamo lo stesso effetto di prima cc jaws aumentiamo un po' con la complexion e come prima azzeriamo il parametro height aggiungiamo anche in questo caso un effetto ombra in modo che il taglio della tendina risalti un po' di più quindi anche in questo caso effetti prospettiva drop shadow azzeriamo la distanza e aumentiamo un po' la sfumatura ora torniamo la tendina dobbiamo modificare la direzione e vogliamo che sia perpendicolare alle tendine della scena 1 e direi che così va bene ora dobbiamo fare l'animazione della proprietà complexion da 100% a 0% quindi portiamo il valore a 100% prendiamo il cursore ci allineiamo con il primo frame della scena 2 ora doppio clic sulla proprietà complexion in modo che appaiano i parametri qui nella timeline accendiamo l'orologio avanziamo in questo caso più o meno un secondo quindi circa qui e azzeriamo questo parametro qui in questo caso direi di ammorbidire entrambi i keyframe sia in partenza sia in arrivo quindi li seleziono e col controllo easy easy assegno un valore tra i 50 e i 60 facciamo una preview del passaggio dalla scena 1 alla scena 2 benissimo direi che la tendina si apre proprio bene e ora aggiungiamo la scena 3 andiamo nella finestra di progetto aggiungiamo la scena 3 la facciamo cominciare più o meno intorno ai 7 secondi quindi la spostiamo qua e anche la scena 3 applichiamo esattamente gli stessi effetti che abbiamo applicato alla scena 2 con gli stessi keyframe quindi in questo caso possiamo copiare dalla scena 2 e incollarli alla scena 3 quindi selezioniamo la scena 2 mettiamo in evidenza il controllo effetti selezioniamo i due effetti cc jaws e drop shadow ctrl c li copiamo ci allineiamo con il primo frame della scena 3 in modo che questi due keyframe si incollino esattamente all'inizio della scena 3 e con ctrl v incolliamo gli effetti appunto la scena 3 se cliccate il tasto u vedete che i due keyframe sul parametro complexion cominciano proprio all'inizio della scena 3 facciamo una preview quindi dalla scena 2 si passa alla scena 3 perfetto ora riguardiamo il tutto dall'inizio alla fine per vedere se va bene perfetto quindi questo esercizio finisce qua e ci vediamo alla prossima ciao